Ieri sera mi sono regalata un tempo nobile, un tempo piacevole nel quale ho pitturato, ho creato e ho fatto arte e tutta notte ho sognato arte e questa mattina quando era il momento di scegliere il mio vestito Elisa Cavalletti per questa giornata speciale ho proprio scelto questo, questo abito al quale ho dato il nome di Fontevecchio perché mentre lo creavo ho pensato a Firenze, tutte le sue bellezze, la sua arte, allo splendore che lei mi trasmette e mi emoziona ogni volta che ci vado. Poi è chiaro che prendendo ispirazione da Firenze mi diventa facilissimo fare dei ricami particolari, rivivere queste emozioni, giocare con i suoi colori, il verde di Firenze, la sua arte, ogni angolo è speciale e quindi mi sembrava che potessero essere anche dei vestiti speciali per voi e se vi sentite anche voi in viaggio con la mente e perché no a Firenze, indossatelo pure voi.